Sono stati consegnati altri otto ventilatori polmonari all'azienda sanitaria provinciale di Egrigento. A dare la notizia il direttore generale Alessandro Mazzara e quello sanitario Gaetano Mancuso. Il nuovo quantitativo si aggiunge al blocco di 5 recentemente consegnato e permetterà di approntare ulteriori postazioni necessarie ai trattamenti di terapia intensiva per eventuali pazienti affetti da coronavirus che dovessero presentarne necessità. Le nuove apparecchiature saranno suddivise in ugual misura tra i presidi ospedalieri di Egrigento e Sciacca, quindi quattro a testa, e una volta installate e collaudate offriranno un potenziamento delle azioni già in atto per fronteggiare l'emergenza epidemiologica. I vertici dell'Asp si dicono certi che questo ulteriore traguardo raggiunto rivesta un'importanza strategica, ampliando ancora di più le potenzialità di cure in provincia. Un passo alla volta dunque con i tempi siciliani è sicuramente una buona notizia la dotazione di apparecchiature fondamentali negli ospedali scelti per essere in prima linea nella necessità di fornire risposte efficaci nell'ambito della lotta contro il coronavirus. Questo permette di guardare sicuramente con maggiore fiducia la dotazione iniziale di dieci posti letto di terapia intensiva, in una successiva fase diventeranno sedici, negli ospedali Giovanni Paolo II di Sciacca e San Giovanni di Dio di Egrigento. Ospedale di Sciacca dove peraltro di ventilatori polmonari ne sono attesi altri cinque, tutti scaturiti da apposite donazioni, tre da parte dell'Associazione Orazio Capurro Amore per la Vita, uno da parte del Movimento 5 Stelle, uno dell'industria ittico conserviera Scalia di Sciacca. Un secondo ventilatore polmonare è stato donato dal Movimento 5 Stelle al San Giovanni di Dio di Egrigento. Una situazione che dovrebbe garantire sulla possibilità di poter far fronte alle eventuali emergenze. Quelle che hanno visto l'assessore regionale alla salute Ruggero Razza stabilire che all'ospedale di Sciacca dovranno essere operativi dieci posti di terapia intensiva, sei ad Egrigento, cinque a Licata, di cui due di terapia subintensiva e tre a Canicatì. Oggi intanto è giornata di tregua e nello scontro in atto tra il sindaco Francesca Valenti e il commissario ad acta per la direzione medica dell'ospedale di Sciacca Alberto Firenze. Dopo la decisione del sindaco di chiedere al Ministro della Salute Roberto Speranza di inviare gli ispettori a Giovanni Paolo II ritenendo che qui non siano state osservate le disposizioni sulla necessità di non creare ospedali misti, vicenda da cui è scaturita la dura reazione del professore Firenze, il quale ha provocatoriamente dichiarato di non vedere l'ora che i commissari arrivino, riferendosi evidentemente alla possibilità che si rendano conto del lavoro svolto di separazione dei percorsi e di messa in sicurezza dell'ospedale, pur ammettendo che le perplessità del Ministro sono corrette ma che, nella fase in cui ci trovavamo nei giorni scorsi, non si poteva provvedere in maniera diversa. Ieri poi la decisione di Firenze di organizzare la sala operatoria a Ribera per gli interventi chirurgici di cui dovessero avere necessità i pazienti affetti da Covid-19. E a proposito di percezione non del tutto positiva della sicurezza dell'ospedale, è corretto ricordare che al momento non vi sono pazienti né operatori contagiati e che adesso sono disponibili due aree di emergenza separate, una riservata ai casi sospetti di Covid-19, perfettamente attrezzata, l'altra area per tutte le altre rimanenti e sono tante esigenze di pronto soccorso. Inoltre, in ospedale i percorsi per accedere ai reparti da emodinamica e cardiologia al punto nascita sono perfettamente separati da tutto il resto. E nel frattempo la direttrice del reparto di ginecologia e riabilitazione del San Giovanni di Dio, Maria Rita Falco Abramo, ha precisato oggi che l'unità operativa dispone di percorsi ad aree separate tra pazienti Covid e pazienti non Covid, al fine di garantire la piena sicurezza, l'assistenza sanitaria con la realizzazione di una zona diagnostica, parto e sala operatoria totalmente dedicate. Sulla situazione ad aggrigente abbiamo chiesto un commento al sindaco Lillo Piretto. Anch'io, così come sarà accaduto alla mia collega Risciacca, abbiamo raccolto rimostranze e suggerimenti, critiche nei confronti dell'Asp da parte di medici, da parte del personale operante all'interno dei presidi. L'Asp ci ha tranquillizzato in ordine, e così anche l'assessore Arrazza, una storia di dimostranze che io personalmente posi per ciò che riguardava intanto il San Giovanni di Dio di Agrigento. Da quella riunione si assunsero la responsabilità e certificarono che i dubbi che noi sollevavamo e che io in particolare sollevai per la parte, ripeto, della città di Agrigento, per il San Giovanni di Dio erano superati. Adesso ognuno deve fare il compito suo. I sindaci, e io da sindaco non intendo fare il responsabile Asp, e ciò che a me interessa è che rassicurino rispetto a quelle che sono state da parte di tanti cittadini, ripeto, anche con appelli accorati, una serie di dubbi che erano stati sollevati.